Piacenza si prepara a celebrare la festa della mamma. Lo farà con 5 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti che partiranno venerdì 11 ai Giardini del Sole di Via Marinai d'Italia con Ci sarà una volta, la favola poetica di Pappa e Pero organizzata dal Centro per le Famiglie con l'Associazione Le Valigie. Il 12 maggio invece, nella Sala dei Teatini alle 21, è in programma il concerto del Coro Placenzia Gospel Choi, in collaborazione con firma. Mentre il 13, dalle 14.30 alle 22, nell'Arena da Turi è in programma il Farnese Cavalli e Carrozze, lo spettacolo equestre con carrozze e figuranti preceduto dal corteo per le vie cittadine. A organizzarlo sarà l'Associazione Autonoma Diabetici Piacentini e il ricavato verrà devoluto all'Associazione Le Querce di Mamre. Sabato 19 invece alle 11 nella Biblioteca Passerini Landi si terrà la presentazione del libro di Enrica Perrucchietti, utero in affitto. Mentre domenica 27 alle 10 in Piazza Sant'Antonino è in programma l'evento di musica all'aperto il pianista fuori posto, con il concerto finale nella Sala dei Teatini in collaborazione con l'Associazione Rinascita Cristiana di Piacenza. Ecco cosa si troveranno davanti i piacentini. Si troveranno davanti cinque appuntamenti importanti che saranno poi messi nel dettaglio, ma soprattutto una grande voglia di dire grazie, di abbracciare tutte le mamme piacentine e di fare anche una considerazione. Noi oggi abbiamo circa 47 mila famiglie, di cui 10 mila con minori e sono una risorsa importante, però guardando nel futuro incominciano a mancare i piacentini, per cui l'amministrazione vuole in qualche modo rimandare a una piacenza dove possano ritornare i bambini. Oggi ci sono otto nati e 11 piacentini in qualche modo che muoiono, quindi c'è un gap da migliorare. Tutte le iniziative quindi a favore della famiglia e a favore della natalità ci fanno pensare a un futuro più eroseo e a un futuro migliore.